Un patrimonio da valorizzare, 12 sindache per il calendario dell'Anciveneto. Sì, è stato non solo divertente e interessante trovarci per questa occasione, ma è stato anche un modo per condividere le nostre esperienze amministrative da donne. Cosa vi proponete con questo calendario? Beh, è un modo per trasmettere il fatto che si può essere buoni amministratori, anche essendo donne, perché c'è ancora qualcuno che ha di questi dubbi. Soprattutto noi sappiamo far squadra, sappiamo essere concrete e questo vuole essere un messaggio molto chiaro ai cittadini. C'è bisogno di una presenza femminile nelle istituzioni e con questo calendario vogliamo dare un messaggio molto chiaro.